Il personale della Digos ha notificato al 36enne Gaetano Portaro il provvedimento di divieto di dimora nel comune di Messina per la durata di tre mesi perché è ritenuto responsabile di reati di natura elettorale in occasione delle amministrative dello scorso anno. Si tratta di un'applicazione della sentenza della Cassazione, dopo i ricorsi presentati dalle parti, che ha stabilito che l'indagato potrebbe inquinare le prove e che deve quindi tenersi distante dal suo comune per consentire un migliore svolgimento delle indagini. Secondo l'accusa il Portaro, presidente di seggio nella sezione speciale di Casa Serena, struttura per anziani presso la quale tra l'altro lavora con la mansione di Economo, durante le operazioni di voto per il ballottaggio del 23 giugno scorso tra Felice Calabro e Renato Accorinti, avrebbe in più occasioni accompagnato dentro la cabina elettorale alcuni dei votanti, indicando espressamente chi votare e in qualche caso egli stesso avrebbe apposto il segno. Le preferenze erano tutte indirizzate verso Calabro, risultato comunque poi sconfitto, e pare che la segnalazione alle forze dell'ordine fosse giunta in occasione del primo turno, quando evidentemente tali episodi si erano già verificati. E così, approfittando della pausa tra il primo turno e il ballottaggio, la polizia si è introdotta nel seggio piazzando telecamere nascoste. I fotogrammi così avrebbero chiaramente immortalato il presidente di seggio mentre si introduceva nella cabina. Gaetano Portaro è così accusato di aver violato il diritto alla segretezza e di aver indirizzato alcuni di quegli anziani verso una specifica preferenza. Un impianto accusatorio tutto da verificare, ma a quanto pare supportato dalle registrazioni video. Un quadro che ha così convinto il procuratore aggiunto Barbaro e il sostituto Arena a chiedere l'applicazione del divedo di dimora per tre mesi. Il GIP, pur avvisando i grevi indizi di colpevolezza, aveva inizialmente respinto la richiesta. Il ricorso della procura però ha convinto prima il Tribunale del Riesame lo scorso ottobre e adesso anche la Cassazione. La misura è quindi immediatamente esecutiva.